Noi come sicurezza al Barastra abbiamo pensato di fare del Covid-free come con dei pannelli a rasio infrarossi e ultravioletti per tutelarsi perché secondo noi è meglio prevenire che curarlo il virus. Quindi con questi sistemi pensiamo di saggiamento di prevenirlo. Questi strumenti sono sistema quadro come abbiamo già visto oppure uso termosifone, uso mobiletto sia infrarossi che ultravioletti. Quindi avverrà messo uno alla sala del Bar e tre qui dentro nella sala che è più chiusa. Solo con l'esterno non riusciamo a sopravvivere quindi dobbiamo ospitare i clienti come una volta all'interno però farli stare al sicuro. Fermo restando che i protocolli sono stati studiati da persone che fanno questo di professione perciò sono giusti e vanno rispettati. Noi vogliamo aggiungere qualcosa in più che è la sanificazione degli ambienti usando i raggi ultravioletti ma soprattutto infrarossi lontani che gli ultravioletti non si possono usare all'interno che hanno la possibilità per la natura di sterminare, proprio sterminare la parola, di tagliare in due virus e batteri. Di conseguenza chi entra in un ambiente protetto da questi pannelli praticamente è exempt free, exempt covid, non può prendere infiammazioni, infezioni. Questo permetterà al barastra di far consumare i suoi prodotti alla gente in tranquillità assoluta usando le mascherine quando vanno usate e togliendo le mascherine quando vanno tolte. È un'aggiunta che si fa. In estate è un po' meno importante perché già ci pensa la natura, noi siamo più perpendicolari al sole allora praticamente l'infrarosso ha più potenza, più potenza perciò diventa più aggressivo e distrugge maggior quantità di virus nello stesso quantità di tempo.